Sì, ora c'è una scuola di modelli e di talent school a Corona Quattro Damieta, che non si chiamano così, per il festival di Dama Cultural. È facile fare questa elezione di partecipanti? Sì, sì, è facile. È molto facile, mi piace la cultura. È un gruppo che sta celebrando 20 anni e per noi è stato un piacere di contribuire anche con la nostra cultura a través del concursi qui, con una scuola interessante, perché è stato molto stimolato a tutti i nostri ragazzi per continuare a aprire e cultivare la nostra cultura e continuare a crescere. Dicono come con quattro partecipanti viaggiare qui? Sì, l'anno passato abbiamo la scuola di Dama Cultural, la scuola di Anahisa Orman, e ci si è stimolato già ci sono, ci si è una scuola di Dama Cultural, ci si è molto grande e già con la nostra scuola di Dama Dudama, ci si è chiaro che ci si stanno poi al nostro bambino, ci si è una scuola di Dama Cultural, ci si è davvero una scuola di Dama Cultural, e ci sono state come con noi, ci si è davveroθηco di avere un piccolo e ci si ci si è davvero un obiettivo. Ci si è verbo, è una scuola di quattro... Ctro cosa dicono che facciamo una scuola di una scuola di Dama driver, ma guardiamo una scuola di Dama Negri, noi stiamo in quattro, praticamente da due soli, non c'è l'altra falta, ma sicuramente per l'altro anno, noi stiamo completamente con tutti i sei partecipanti, e l'anno è un challenge per noi, noi siamo a conoscere, qui c'è il concorso, ma sicuramente, in questo anno, noi stiamo rincaendo un esforzo per noi, e spero di venire a presentare.